Marco Migliorini, l'avellino a Montevergine dopo la benedizione dell'abate Riccardo Luca Guaria per ringraziare mamma schiavona per questa salvezza sofferta ma ancora più bella forse per questo. Insomma avrei preferito rilassarmi un mesetto fa e chiudere prima questa pratica però purtroppo non ce l'abbiamo fatta e per fortuna anche se l'ultima giornata è arrivata questa salvezza tanta agoniata e ce l'avevamo promessi tutti noi ragazzi che saremmo venuti il giorno dopo subito a ringraziare la Madonna. Io ti dico guarda se analizzo i miei ultimi 14 mesi da Asco e dall'anno scorso veramente è stato un anno di sacrificio enorme veramente anche a dirlo a parole uno non si può rendere conto perché cinque operazioni e ricadute è stato veramente poi anche lo stiramento che ho avuto poi dopo Carpi quando comunque ero orientato in squadra ne stavo facendo bene però alla fine sono contento di me stesso di quello che ho fatto dalle motivazioni che ho sempre avuto e del cuore che ci ho messo perché veramente quello che ho fatto l'ho fatto col cuore l'ho fatto per l'Avellino per i miei compagni e quindi faccio un applauso pure a me stesso non tanto per le prestazioni ma per come ho affrontato tutte queste tragedie se vogliamo dire. Dopo Pisa sembrava fatta per la salvezza invece è arrivato un periodo di flessione c'è stato un momento in cui hai temuto e avete temuto che potevate compromettere il gran girone di ritorno che avete fatto? Sì ma più che altro perché ti ritrovi con 44 punti mancavano mi sembra sei partite alla fine l'anno scorso a guarda salvezza era 46 quest'anno sembrava forse ancora più bassa quindi forse un attimo uno dice vabbè prima o poi una vittoria e siamo sali poi invece ti trovi ad affrontare il Cesena che comunque quando è venuto qua era sotto di noi in classifica doveva vincere per forza. Poi siamo andati da Benevento comunque un derby loro arrivavano da un periodo difficile e anche loro avevano estremo bisogno di punti. Poi il Bari che era l'ultima spiaggia per provaventare il playoff. Il Salernitano comunque abbiamo affrontato delle partite non semplici sicuramente. L'Avellino appena hai riavuto un punto dei tre di penalizzazione che gli erano stati inflitti lo scorso 12 aprile quanto è inciso anche la penalizzazione su questo periodo di flessione di cui parlavamo poco fa? Sicuramente più che la sentenza dei tre punti di per sé è stato tutto quello che è stato prima perché si parlava di sette di sei di cinque insomma non era semplice lavorare perché sai se ti trovi con sette punti in meno comunque voi non vuoi un giocatore ci pensa. Poi anche i tre punti insomma sappiamo tutti che eravamo salvi già la settimana scorsa sicuramente saremmo stati più rilassati più sereni però insomma la cosa assurda è che dopo quattro anni una squadra completamente diversa si deve trovare ad avere un handicap così.